Di nuovo insieme con Spunti e Spuntini parliamo di una società che ha una lunga storia nel territorio non solo Aretino e la Chimera Nuoto, ne parliamo insieme con il presidente e direttore tecnico Marco Magara che ringraziamo per essere intervenuto al nostro appuntamento qui a Spunti e Spuntini. Presidente a grandi linee qual è lo stato di salute attuale della Chimera Nuoto? Penso siamo messi bene, nel senso che abbiamo molti giovani che sia a livello regionale stanno ottenendo successi, medaglie, le femmine in questo fine settimana hanno fatto 9 medaglie, sia a livello nazionale, ormai sono circa 13-14 anni che consecutivamente facciamo un po' di campionati italiani giovanili, ci manca un po' l'attività assoluta, ma perché? Perché gran parte dei ragazzi arrivati a fine della scuola vanno fuori Arezzo, quindi noi abbiamo scelto una dimensione essenzialmente giovanile, devo dire che anche con molta soddisfazione abbiamo ex atleti nostri che ora sono negli Stati Uniti, come Leonora Camisa che è all'Università dell'Arkansas, alcuni continuano a nuotare in altre città, però la dimensione di Arezzo vuoi perché il polo universitario è un pochino più piccolo, fa sì che noi ci dedichiamo diciamo fino ai 18 anni, cerchiamo di dare il meglio. Presidente c'è un dato forse oggettivo che deve essere messo in evidenza, uscite state venendo fuori da un quadriennio molto complicato? Sì, il quadriennio è complicato sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista anche gestionale, organizzativo, le generazioni nuove sono cambiate, anche improvvisamente direi, era già nell'aria, però è stato accelerato in questo quadriennio, quindi i ragazzi sono molto più distratti, hanno problemi di attenzione, c'è una genitorialità un po' nuova, particolare e quindi è necessario riorganizzarsi e quindi io sto lavorando, mi sto dedicando più che alla parte sportiva dove ottimi tecnici, alla parte organizzativa, didattico, pedagogica. È così difficile trovare istruttori perché l'impressione è che non sia un problema facile da risolvere. No, è molto difficile innanzitutto perché molti cercano altre attività, altri lavori e nel nostro caso gli ex atleti che potrebbero prendere quella strada vanno fuori Arezzo, quindi è molto complesso, con la nuova legge dello sport è necessario brevettare chi va a lavorare per fargli il contratto, quindi abbiamo un doppio binario in questo periodo, mi sto impegnando essendo anche docente regionale della Federazione Italiana Nuoto, abbiamo organizzato un corso ovviamente autorizzato dalla Federazione Italiana Nuoto con la Scuola Nuoto Federale per brevettare i giovani che abbiamo, che servono per poi poterli fare il contratto e anche per cercare di fare un po' di pubblicità e trovare nuovi interessati a imparare a insegnare a nuotare, che non è una cosa semplice. Ecco, lei accennava anche ai progetti che vi vedono coinvolti, per esempio i percorsi didattici che organizzate anche insieme con le scuole, anche con lo stesso Comune di Arezzo, vi è collaborazione, l'obiettivo di questi progetti, l'obiettivo principale qual è? L'obiettivo principale è divulgare la sicurezza in acqua, quindi bisogna salvarsi la vita, però per salvarsi la vita deve essere chiaro che bisogna saper nuotare come un nuotatore, per essere veramente in sicurezza e poiché è un processo medio-lungo, invito tutti, anche gli enti, a comprendere che dovrebbe essere, bisognerebbe regolarizzare la frequenza degli studenti anche a rotazione su tutte le scuole e per fasce d'età nella pratica del nuoto, magari la mattina e poi nelle scuole nuoto, come la nostra, ma ce ne sono anche altre sul territorio provinciale, toscano, per continuare perché il nuoto poi, saper nuotare è saper fare quattro stili, saper fare i misti, saper fare le virate, tuffarsi, nuotare sott'acqua e forse lì iniziamo a essere abbastanza sicuri in acqua. Fate corsi in fondo anche per reclutare istruttori? Sì, facciamo solo due step, come avevo detto prima, la Federazione Italiana Nuoto ha dato la possibilità alle scuole nuoto di organizzare il livello di istruttori base e lo stiamo facendo per chi ha avuto già esperienza, con altri enti, altre società, io collaboro per la formazione di base per cercare di avvicinare nuovi adepti e ci sarà in programmazione un corso dove io parteciperò per le UE SACLI, riconosciuto dal CONI come istruttore di nuoto e acqua fitness, perché comunque sono attività molto richieste. Lei ha messo in evidenza questi aspetti che sono fondamentali, aspetti di insegnamento, divulgativi, educativi, oltre a quelli agonistici, sappiamo che dal punto di vista agonistico i ragazzi e le ragazze della Chimera Nuoto stanno ottenendo risultati molto importanti anche in questo periodo. Sì, di rilievo, come ti dicevo, in questo fine settimana abbiamo fatto nove medaglie ai campionati regionali, abbiamo già sei o sette, non me le ricordo, tutti a memoria, qualificati per i campionati italiani giovanili, perché nel nuoto bisogna realizzare una prestazione in tempo e quindi ci sono delle tabelle. Nell'attività assoluta non abbiamo, diciamo, sopra i 18-19 anni molti atleti, perché vanno tutti tendenzialmente fuori Arezzo, quindi per scelta noi facciamo un po' un'attività più giovanile e quasi quasi direi che forniamo gli atleti alle altre società, però è comunque piacevole perché la formazione è veramente soddisfacente, perché il nostro motto è un pochino utilizzare lo sport per costruire la personalità dei ragazzi. Non esiste in realtà un atleta veramente prestante, forte, prestazionale con una personalità, diciamo, non troppo strutturata. Il nuoto è uno dei pochi sport, se non l'unico, che si può praticare da 0 a 100? Sì, direi sì, con qualche eccezione. Dipende, dipende. Devo dire che i master più grandi anche in Italia nuotano fino a 90, ci sono master di 90-92 anni che gareggiano, quindi diciamo che lo slogan è azzeccato. Sì, il nuoto ha delle fasce d'età molto larghe, abbiamo la scuola nuoto baby con il metodo di giletto da 0 a 3 anni che ho, diciamo, diffuso io a Arezzo già i fini anni 90, i primi anni 2000, che a Arezzo è veramente molto sviluppata, abbiamo dei bambini piccoli anche di un anno di età in grado di cadere in acqua, riemergere e fare dei piccoli tratti, perché è possibile farlo, come è possibile imparare le lingue in una certa fascia di età, è molto più semplice, il nuoto uguale. Ovviamente è un baby nuoto, non è il nuoto della Pellegrini, il nuoto del nuotatore di livello, ma è possibile farlo. Così come l'estremo opposto, è possibile avvicinarsi al mondo acquatico, anche dell'apprendimento del nuoto, anche 60, 70, 80 anni. La signora, diciamo, più anziana che è venuta da noi, presso la nostra società, aveva, mi sembra, 83 anni, ancora nuota, è venuta a imparare da zero e comunque nuota. Ovviamente con la sua velocità, adeguata alle sue, però è in grado di nuotare, sa respirare. Ecco, Presidente, il tennis a Sinner che sta un po' facendo l'effetto trainante, c'è un effetto trainante simile anche per il nuoto? Direi che l'effetto trainante più grande, veramente, che si ricorda è avvenuto nel 2000, con i famosi Fioravanti, Rosolino, lì hanno veramente, io ho ancora dei tesserati che hanno iniziato nel 2000 e ancora nuotano. Ora diciamo che quell'effetto trainante così forte nel nuoto c'è meno. Diciamo che il nuoto sta facendo tantissimi risultati, quindi probabilmente le scuole nuoto sul territorio hanno fatto un grandissimo lavoro, perché c'è da dire che gran parte dei nuotatori giovani e forti che ottengono risultati, mi viene in mente Ceccona, ha fatto il raccordo del mondo, ha vinto i Cento d'Orso, i campionati del mondo, vengono tendenzialmente dalla provincia. Poi magari vanno nelle grandi città, grandi squadre, come dicevo, perché qualcuno va a studiare, perché entrano nei gruppi sportivi militari, però la provincia sta fornendo in maniera capillare tutte le regioni, devo dire anche il Sud Italia è in grande ripresa, tantissimi talenti. Coloro che volessero avvicinarsi alla chimera nuoto, quali passi devono fare? Beh, direi molto semplice, venire al palazzetto del nuoto di Arezzo, zona stadio, via Le Gramsci numero 7, andare in segreteria o alla reception e chiedere informazioni. Direi che ci sono le risposte per tantissime attività, non solo il nuoto, non solo l'apprendimento, mantenersi in forma, attività di ginnastica, collaboriamo con l'ASL per l'AFA, che è un'attività di ginnastica adattata di mantenimento, che si fa attraverso i canali dell'ASL, abbiamo il nostro fisioterapista che collabora anche con la chimera nuoto, quindi tantissime attività, dalla ginnastica in acqua al nuoto, all'apprendimento, i bambini piccoli e anche direi solo il relax, perché in acqua c'è un vantaggio che essendo, tra virgolette, dico in antigravità, non c'è l'effetto, comunque è ridotto della gravità, quando si esce dall'acqua si ha quel senso di un attimino liberazione, molti vengono anche per abbandonare i pensieri e rilassarsi. Ecco, sento che le attività sono moltissime, numerose e non possono essere portate avanti senza un personale tecnico adeguato che lei coordina, vogliamo ricordare anche i suoi collaboratori più stretti, coloro che permettono di svolgere queste attività. Sì, direi, partiamo dalla squadra sportiva, abbiamo Marco Licastro che ora è la guida tecnica, Adriano Pacifici, poi Mattia Esposito e Francesco Salvini che sono i principali artefici della parte sportiva. Poi non elenco tutti gli altri istruttori perché sono veramente tanti e sono contento anche di averli perché, dicevi, questo quadriennio 2024 ha messo di fronte a grandi sfide, devo dire che quelli che sono rimasti a fare questa attività sono veramente competenti, bravi, appassionati e devo dire che a parte la visione solo lavoristica, però comunque sia nello sport bisogna avere anche molta passione nel trasferire i contenuti tecnici, le esperienze, gli insegnamenti. Quindi sono molto contento dell'assetto che abbiamo, sto cercando perché, come dicevi te, c'è un effetto onda, non come quello del 2000 e quindi mi sto preparando ad accogliere nuove richieste e quindi sto formando nuovi istruttori. Ecco, Presidente, la domanda conclusiva, prima di congedarci, qual è il futuro che attende la Chimera Nuoto Arezzo? Un futuro, direi in parte, anche nel segno della tradizione perché è una società prestigiosa nel nostro territorio, ovviamente guardando anche alle sfide del futuro. Sì, ci stiamo strutturando per riorganizzarsi perché vogliamo aumentare il numero degli atleti, aumentare la qualità degli atleti e aumentare anche il divertimento, ma divertimento inteso non un qualcosa di ricreativo, ma un qualcosa dove l'apprendimento e le esperienze che si fanno attraverso lo sport ci pongono di fronte a dei temi che è, diciamo, divertente sperimentare, oltrepassare, misurarsi. Quindi è un qualcosa di più complesso, cioè noi ci vogliamo divertire ad apprendere cose nuove attraverso lo sport. Grazie al Presidente della Chimera Nuoto, Marco Magara, per essere stato insieme con noi a Spunti e Spuntini, la linea a questo punto può tornare alla regia.